Dio immortale, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santa Madre, e voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Chiuso in un dolore atroce, eri là sotto la croce. Dolce Madre di Gesù, Santa Madre, e voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Il tuo cuore desolato fu in quell'ora trapassato dallo strazio più crude. Santa Madre, e voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quando triste, quando affranda, ti sentivi, oh Madre Santa, del Divino Salvato. Santa Madre, e voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Se ti fossi stato accanto, forse non avrei pianto, oh Madre, anche io con te. Santa Madre, e voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E siamo qui questa sera per vedere e partecipare e sentire forte dentro di noi l'emozione dell'incontro di una madre con il figlio. Dice Maria, parla Maria stasera, e ci dice Mi chiedete di parlare? Mi chiedete di ricordare quel che è stato? Non mi è difficile rispondervi, perché tutto è ancora impresso nella mia memoria, come se fosse ora. Mentre ero ai piedi della croce, pensavo Figlio, figlio mio, com'è possibile tutto questo? Non posso guardarti, perché il mio cuore non può sopportare quello che gli occhi vedono. Eppure, questa è l'unica cosa che posso fare, seguirti con gli occhi, come ho fatto sempre. Quale madre potrebbe sopportare uno strazio simile? Eppure, è una vita che ti guardo, è una vita che ti seguo nel silenzio, è una vita che penso che tu sia oltre me, al di sopra di me, e che io, portandoti nel mio grembo e crescendoti, non ho fatto altro che assecondare una volontà superiore. Quella di madre e figlia di Dio, anche ora, di fronte a questo strazio voglio sperare che tutto ciò che era stato già previsto come un fatto necessario perché da tutto questo possa scaturire la salvezza. A questa speranza io mi abbandono e con fede mi affido a te, anche se in questo momento non puoi sentirmi. Quanto dolore, quanta sofferenza hai accettato e devi affrontare. Eppure, nonostante il dolore che lacera le tue carni, non ti sei dimenticato di me, hai volto il tuo sguardo verso di me e hai trovato le parole per affidarmi a Giovanni. Giovanni, ecco il dolore mi attanaglia e una spada trafigge il mio cuore. Non posso fare altro che accettare, ma la mia non è una supina sottomissione al dolore e consapevolezza che qualcosa di più grande sta avvenendo è la certezza della tua risurrezione. Figlio mio, figlio mio, amato figlio, figlio mio, che male ti hanno fatto. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Io vorrei tanto sapere da te se quant'era bambino Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui E quante volte anche tu di nascosto piangevi Madre Quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi E tutti insieme Ave Maria Ave Maria Ave Maria Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi Io benedico il coraggio di vivere sola con lui Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi Per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ti vogliamo affidare oh madre tutte le nostre mamme Ti vogliamo affidare tutte le mamme che riposano qui in questo luogo santo Ave Maria Ave Maria Ave Maria Piena di grazia Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetta è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso nell'ora della nostra morte Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la tua santa croce è redetto il mondo Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la tua santa croce è redetto il mondo Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta è frutto del tuo seno Gesù. Grazie a tutti. Incominciamo a camminare così l'urna e l'addolorata. Organizziamo la processione. Grazie. Buonasera, ciao. Grazie. 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 Grazie.